eccoci qua guardate siamo in fase di pre allestimento fiera faccio vedere un po il casino che c'è durante un allestimento già stiamo lavorando siamo a catania siamo sempre disperati fiera di etnapolis che giorno è oggi venerdì venerdì 13 ragazze oggi è venerdì 13 bruttissimo giorno infatti non vi dico questa mattina cosa è successo guardate lei che vai su youtube acquistate su cosmetica.it tutti i semipermanenti e costruttori che volete 50 ml e regalo un cover a scelta mentre per condurre se per i semipermanenti devi guardare qua anziché acquistare a 19 80 le acquisterete a 15 euro quindi questa promozione avrà luogo già da adesso fino a ottobre quindi acquistate 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 ma soprattutto venite in fiera ovviamente giusto certo venite tutte in fiera un bacio a ibe con lo stipendio ciao a dopo vedere un pochettino lo stand gigantesco che abbiamo a catania tutto in fase di montaggio ancora ci siamo lo stand comincia a prendere forma ora vi faccio vedere una bella panoramica lato lato lormar lato 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 lezewo Lato Etienne che ancora stiamo sistemando Eccomi ragazze, abbiamo terminato l'allestimento Qua guarda, vedete la super mega scritta Mi sono tagliato i capelli in tutto questo, ho fatto capello, barba Sono un po' stanco, però sentite in sottofondo la radio della fiera Che non è niente di eccezionale, infatti lo diremo domani di cambiare Ora vi faccio vedere la fine fiera, come è andato Domani iniziano tre giorni di casino, perché una fiera è sempre una fiera Già avete visto un meeting che è abbastanza soft Una fiera e i ritmi sono un pochettino più serrati Spero vi piaccia, spero di farvi compagnia Ora vi faccio vedere la fine dello stand che è abbastanza grande, tra parentesi E basta Spero vi faccio vedere la fine fiera Grazie a tutti